e ne ha facoltà. Grazie Presidente, ringrazio lei anche il sottosegretario Ferrante e la sottosegretaria Siracusano che ha accompagnato gran parte dei lavori. Preannuncio subito Presidente il voto favorevole, devo dire orgogliosamente favorevole, del gruppo di Fratelli d'Italia al provvedimento Ischia. Lo annuncio subito all'inizio, oltretutto prendendo atto che nessun gruppo, dopo le dichiarazioni che sono state svolte in aula, voterà contro questo decreto. Quindi mi sembrano un po' fuori luogo alcuni passaggi e devo essere sincero anche alcuni toni che sono stati utilizzati. Perché penso questo? Perché ritengo che in orientativamente 50 giorni, questo è il tempo che è decorso dalla tragedia della frana di Ischia fino ad oggi, il lavoro che è stato portato avanti per dare delle risposte alle emergenze e per pianificare il futuro, gli interventi futuro, siano stati spesi nella maniera migliore. Con, e mi riprendo alcuni interventi di altri gruppi che sono stati fatti in aula, 85 milioni di euro stanziati in una tabella di marcia che è stata serrata. Io volevo ricordarli alcuni di questi passaggi, perché il 26 novembre c'è la frana Anischia, il giorno dopo il Consiglio dei Ministri, domenica 27, si riunisce per decretare lo stato d'emergenza. Cinque giorni dopo, il primo di dicembre, il Consiglio dei Ministri numero 8 adotta il decreto sul quale la Commissione si mette al lavoro per sviluppare delle attività. Cosa facciamo in Commissione? Facciamo circa 20 audizioni, sentiamo tutti quelli che sono i diretti interessati, che ci fanno capire naturalmente quelle che sono le emergenze, le necessità da affrontare immediatamente, che sono poi quelle ricomprese all'interno di questo decreto che con un work in progress settimana dopo settimana si va completando. Prego. Mi scusi, onorevole Rotelli. Colleghi, dovremmo dare l'attenzione che merita il collega Rotelli perché il livello di decibel è andato oltre la soglia di tolleranza. Prego, onorevole Rotelli. Quindi c'è questo lavoro, Presidente, che è un lavoro che non si deve e non si può intestare, come è stato rappresentato anche dagli altri colleghi della Commissione Ambiente, soltanto la maggioranza, ma le devo dire che è stato un lavoro assolutamente comune che è andato a completare non soltanto l'articolato, ma anche poi il contenuto di questo articolato che era partito in una determinata maniera, ma che appunto settimana, dopo settimana, ha continuato ad arricchirsi di interventi che, le ricordo, non vanno soltanto, e lo ribadisco, per affrontare l'emergenza, ma che pianificano. C'è stato recriminato in più di un intervento e le dico che all'interno di questo decreto c'è anche qualcosa che va al di là dell'emergenziale e di quello che è successo il 26 novembre a Ischia. E quindi, per quanto riguarda la pianificazione futura, numerosi sono i momenti che la riguardano e li tratterò uno alla volta. Il governo, con spirito assolutamente apartitico, e guardo il collega della Lega che è intervenuto prega di me, in maniera particolare, ha confermato, per esempio, Presidente, il commissario già presente sul territorio di Ischia per la questione legata al sisma, confermandolo anche su questa tematica come commissario, facendo in modo che tutta una serie di passaggi di carattere burocratico venissero eliminati e semplificati, proprio perché bisognava dare subito l'intervento di emergenza e contemporaneamente immaginare una pianificazione che soltanto un'unica persona che prendeva sotto di sé cura di entrambi le questioni potesse, diciamo, coordinare ed organizzare. Ci è sembrato opportuno? L'abbiamo fatto a favore dei cittadini di Ischia, non l'abbiamo fatto sicuramente secondo un calcolo politico di parte, di maggioranza o di appartenenza politica, ma soltanto perché volevamo dare nel minor tempo possibile la possibilità di dare gli strumenti alla persona giusta che stava nel posto giusto per poterli dare e rappresentarli. Quindi abbiamo raccolto le stanze successive del territorio. Le ricordo che le stanze sono veramente tante. Alcuni numeri che sono usciti fuori dalle audizioni sono, per quanto mi riguarda, ma forse anche per tutti gli altri, anche più conoscitori, diciamo, dell'isola straordinaria. Stiamo parlando di una realtà che fa un milione di notti turistiche l'anno, che ha 50.000 posti lette, che quindi vede, ed è questo uno dei motivi dell'accelerazione della velocità, la prossima stagione turistica alle porte e ha necessità di interventi immediati, come per esempio quella della rimozione dei fanghi, che ricordo anche per essere stata riconosciuta da altri colleghi di opposizione, non essere stata svolta mai in precedenza, purtroppo, in altre situazioni che si sono create come questa. È la prima volta che c'è uno stanziamento di 20 milioni di euro che porta via i fanghi, classificandoli dal costone di Ischia. Quindi abbiamo avuto tutta una serie di stanze che non riguardano soltanto questa, ma riguardano, per esempio, e non è da poco, perché forse riguardo soprattutto il relatore, perché è lui che insieme alla spinta di tanti altri gruppi intervenuti oggi si è battuto in maniera particolare, la risoluzione, io credo, Presidente, storica di una problematica che è quella relativa all'autorità di bacino dell'Appennino Meridionale. Tramite il decreto Ischia stiamo facendo pianificazione, e lo dico agli altri colleghi, perché l'autorità di bacino dell'Appennino Meridionale, quindi non soltanto quella di Ischia, ma quella di tutta la Campania, della Basiliticata, della Puglia, della Calabria, avrà una struttura di missione, un gruppo di lavoro, un gruppo di personale qualificato e soprattutto attuale, non 250 impianta organica e 60-70 effettivi, ma c'è uno stanziamento che una volta per tutte risolverà questa vicenda ed è uno degli organismi fondamentali per la pianificazione degli interventi sul territorio. Ci sono, Presidente, 40 milioni di euro per gli interventi emergenziali. Io ricordo che questa, che è una parte che alcuni hanno definito, diciamo, poco consistente, non si ha ancora un elenco di attività e di interventi con la loro quantificazione precisa. Io vi ricordo che stiamo approvando nella prima Camera, dopo 54 giorni della frana, è assolutamente un record, Presidente, di efficienza e di concretezza che stiamo mettendo in campo. Il nostro paese, la nostra nazione è sicuramente molto bella, sappiamo che è particolarmente fragile, abbiamo una storica inadeguatezza alla prevenzione del rischio idrogeologico alluvionale, in cui mi sento di raccogliere il grido d'allarme fatto anche da colleghi di opposizione su questo, e tutto questo è decisamente amplificato dagli eventi climatici estremi e dal cambiamento climatico, Presidente. Siamo obbligati a confrontarci con delle nuove strategie di intervento che devono essere repentine, che devono partire dagli enti locali, dai comuni, dalle province, dalle aree metropolitane. Dobbiamo avere una protezione civile nella quale dobbiamo, e questa è una responsabilità soprattutto del centrodestra e di governo, perché storicamente ha nel DNA questo aspetto, dobbiamo tornare a investire prepotentemente sulla struttura della protezione civile. È il primo momento di intervento insieme alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco. La protezione civile deve poter intervenire, devono aumentare gli uomini, si deve riragionare sullo stesso regolamento della protezione civile, e bisogna aggiornare anche quelli che sono gli strumenti tecnici per poter fare in modo che possa essere operativa al massimo. Un altro aspetto, e su questo vado intanto, e mi avvicino alla conclusione, è quella dei poteri commissariali. Presidente, non è possibile che il commissario diventi per qualsiasi situazione che avviene in Italia, soprattutto calamitosa, una specie di zona di conforto, nella quale ci troviamo poi a ricorrere nel momento nel quale non riusciamo a dare delle indicazioni. C'è una quantità di leggi che obbligano a fare per tutto che rende tutto decisamente, dannatamente complicato con delle responsabilità connesse che non sono più sostenibili. Per questo bisogna rimettere mano al codice che disciplina le emergenze, può essere e deve essere rivisto, al codice della protezione civile che va assolutamente aggiornato, e la prevenzione e la previsione devono essere svolte con dei nuovi strumenti, soprattutto collegati alle nuove tecnologie, che permettono anche un'analisi degli eventi estremi ai quali stiamo andando incontro. La crescita del sistema stesso, della protezione civile, va di pari passo, Presidente, con questo concludo, con la consapevolezza dei cittadini. È stato rimarcato in più di un intervento perché durante l'audizione il capo della protezione civile ha parlato di misure, possiamo definirle, di autoprotezione. Dobbiamo avere dei cittadini informati e consapevoli che siano in grado di fare delle scelte in modo saggio e che possono loro stessi difendersi da questi accadimenti. Purtroppo non è sempre così e quindi questo è uno degli aspetti che dovremmo curare e portare avanti. Non ci dobbiamo ingannare, chiudo, situazioni come quelle di Ischia si potranno purtroppo ripetere, ma se avremo lavorato bene e io ritengo che la Commissione in tutte le sue parti lo possa aver fatto e lo abbia fatto, noi non avremo più le conseguenze disastrose che ci sono state in questo caso. Mi permetto in conclusione di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo decreto durante queste settimane di ricordare a nome dell'intero gruppo in maniera assolutamente commossa le dodici vittime della frana di Ischia e a ringraziare tutti quelli che ci stanno mettendo cuore e anima per ridare orgoglio e dignità a questa splendida isola della nostra nazione. Grazie Presidente.